Eeeh Bella a tutti cazzi, per uno di questi nuovi idiosi Siamo con Domeni Koschi Eheheh, Koschi Oddio, comunque si muove strana a visuale, siamo in una map horror su Red Room, da Red Room? Eeeh, non mi ricordo come si chiama... Ah, è Red Room, si, stanza rossa Possiamo partire? Bene Eeeh Eeeh Eeeh, interagisci, interagio Ok, se accorgi da un po' Interagione What on herth this is this Bonjour Eeeh, mi ch'era un stand di margine Otevata Sempre dico con la statua a che ti fa, divento il di Pietro la unica, non mi ricordo, non mi ricordo, e tu uso Dormiamo Averso io dormiamo qui dormiamo insieme ti posso accarezzare no stai fermo dai zitto ma che cavolo dormo per terra ho visto un tuo piede where the hell are we sembra tipo un orrore che già ho giocato c'è un nuovo gioco ho visto ma se vuoto su una roba a terra ma io tu su eh frate guarda che c'è a terra qua un libro eh l'unico l'unico modo da svegliarsi dal dal sogno is to go on che cosa vuol dire tipo di entrarci dentro oh eh vabbè ci sta scosto chi è sono aperto una porta ma interagiamo fanny dream ma direttamente diverso ovviamente è stato più divertente non lo so oddio sembra un sogno che ho fatto da una volta e tu ci ritornavo zitto è uguale oddio vuole aperto questa vabbè c'è la testa eh ah beh si è aperto un'altra porta ah questa qua ah questa qua ah la solita eh si basta basta che cazzo non mi stare troppo dietro che non riesco a mi che mi ha capito ho 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 dovuto risponde predozione pronto ho c'è una testa niente risposto all'estate importante cosa parte questo immagino il cavolo ma che strano ma che cosa ha aperto la porta madre salve oh buongiorno amico hey allora che cos'era il tizio che è scomparso tutto normale comunque niente di un po' non c'è più la maschera tra poco lo ammazzo eh a me o a te non c'era poco 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 ah grazie io ero entrato qua ma cosa c'è da fare qua ci sarà qualcosa da forza ah una chiave ah dai get the che libro rion ok è è la chiave della libreria al secondo piano non qua eh sei qua eh oh prima volta che giovi la porta non erano veramente po' la stanza di noob oh che cavolo è successo la lampada è caduta la lampada è caduta penso se fosse chiusa la porta sarebbe stato molto divertente eh fantastico ma quindi hai trovato qua cosa tu scuola dentro oppure la testa? si aperta la porta ah beh allora ah beh immagini chissà cosa succederà adesso ma niente andiamo avanti eh senza paura ma è chiusa mai mai avere paura eh ah ah qua ah vabbè qua c'è direttamente la maschera quindi la prendo va bene davanti ma non mi dire ma non mi dire eh la stessa stanza dai veramente eh bello vai sei interrato quello che yeee mi piace la stanza in quelle stanza dovrebbe mai andare in un horror faccio una testa ma che poi ci vanno tutti mi ero da la testa già vabbè già ero da possiamo sapere praticamente in un momento infatti ah risponde dove ah ma è su boh ah porca miseria vabbè tanto hai preso tu ahah ahah che bello pronto a pizza eh rispondo andiamo avanti comunque non conviene non conviene correre perché facciamo troppo casino eh ok vabbè la stato non c'è più grazie fin qua non ascia ah ah i think ah e devi ah frate frate ma tu senti tipo che ti sussurrano no io ti giuro sento una voce che dice domi tipo sempre dice domi eh domi ti giuro che non sono pazzo diciamo cosa del genere no oh 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 ah 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 ma ah ah no il tuo video si andrà avanti a prendere il sito avanti no son carato in mano, sento, ti sento sento? no io non lo sento ti giuro se tu ci fai caso, ora che non sento non sento niente a me non ho letto dove va la chiave buco, io ho fatto un piano, c'ho stato, c'è il voto vai no ma se era, abosto isle boss oh che cavolo eh ecco bravo lui pagare la bolletta stronzo ho preso ho preso solamente la maschera che è successo ehm ti ha aperto su, ti ha aperto su ah ammazzati fai cagare ahahah cosa devo fare della mia vita no, anzi oh cazzo è non lo so ma c'è in segue non ho capito ma non è che no è che perchè a un certo punto ti fa correre se ci fai cosa hai visto? ah non lo capisco adesso sono su però io eh è già un passo avanti però non so perchè a un certo punto ti fa correre a un certo punto comunque direi di attraversare la porta se ce lo fa fare ah secondo me l'avevo vista l'avevo vista che era dietro di te secondo me l'avevo vista quando è sceso le scale vada boh proviamo aspetta ho detto vabbè vaffanculo era dietro si dopo un po' appara vada non mi piace mmm poco azzigoschi questa situazione ecco mi ha fatto pagare tu mi ha fatto pagare ok stai zitto una vasca mmm questa situazione non mi piace eh neanche ma che dobbiamo fa? non lo so beh che palle che sento la tizia che dice tipo domi eh ma fai tu non sentirla ti giuro non lo so non la sento eh ti giuro se no te scendiamo in questa stanza ora è che avvia la registrazione e poi te la devo mandare perchè ti giuro te lo dici tutte aperte quale porta eh ma se non dobbiamo ah il libro cambia? no la testa ho trovato ah beh quindi ti posso andare io spero che ci sia aperta se non 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 ci sia aperta ma vaffanculo vabbè aspetta aspetta fai silenzio domi ok aspetta ah ma ma tua madre gioco di merda ecco ah vabbè ah ma era voluto era voluto ammazzami tu non eri voluto ahahahahahahahahahahahahaha ti raggiisci vai avanti tu ok ah c'è un segreto nella biblioteca nel secondo luogo di questa casa sei un uomo in unico ma che è successo ah ma vai su vai su adesso vai su vai su arriva eh non lo so vai su prova l'ho visto proviamo iiii ti prego levati 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 ti prego levati ti prego dov'è non c'è levati c'è dietro levati ti devi dovere non ti caga ah ok eh il segreto quale sarebbe scusa eh secondo me lei è il segreto a sto punto eh vabbè spiegato abbracciato vieni qua vaffanculo vabbè oddio me l'aspettavo cioè nel senso io mi sono spaventato perchè me l'aspettavo vabbè ok ah porca miseria che sono te l'aspettavi eh no ok ok il fatto che ci sia un segreto l'abbiamo capito eh ma magari l'abbiamo visto vero ma magari c'è veramente un segreto capito ah c'è una scelta vita ma nasce nel bagno ma non me la fa prendere ok ok ah 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 e se dice secondo piano secondo piano scusa eh sì ah 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 do vadoame adesso non c'è niente dove la maschera fovee secondo mi avveramento su Earringeh monthor All 12.100 mai ma puoi un decreto so quello che mi sono a fanculo c'è un libro da piccola sono andato aspetta che la prendo ho messo 5 ma puoi non sapeva quanto non sapeva quanto non mi ha toccato ma ti auguro dai a te dobbiamo ritornare su no perchè non sono molto miniaturicamente la volta aperta non correre non stavo correndo tua sorella ma fa prenderla ascia adesso si ah si ci sarà da andare sotto eh beh si di nuovo oddio ah sta presa ma è un po' facile non mi piace non so secondo me c'è qualche inculato dietro l'anno e fa così che si chiusa la porta del cementerrato via ecco ho detto oh 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 carino mi sbaglio andiamo un po' più veloci di prima ehm no ho l'impressione un'impressione 2 eh oh eh oh oh via 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 corri eh togli si voi stai zitto villagers oh 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 panic oh oh ce n'avevamo a aspettare ahahahah noo di nuovo tato aah ahahahah noo vai alla strada ahah ahahahah god oh 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 allora scusami e ora o e giù e su e su e su e ora quindi sarà giù no è dritto sempre dritto ma il contrario ehm di pay together eh eh is there any way to wake up ah c'è un modo per sversi a questo sogno penso che ci siamo svegliati ah non lo so eh se ci siamo svegliati e se in realtà non fosse messo con un sogno quei tocchi in reale beh è tutto buggato esatto esatto finito ah beh ragazzi oddio ma questo sono io ma quello sei tu oh eh comunque eh ci siamo divertiti sicuramente bellissima mappa ho avuto paura ho avuto paura sinceramente eh boh ragazzi eh voglio bene eh niente diteci se se vi è piaciuto thanks for playing thanks for playing the the matchmaking the matchmaking the map e niente basta è stato bello che brutto che sei arrivederci arrivederci vedo vedo per